La rappresentazione teatrale dal titolo evocativo Ius Prime Noctis ha condotto lo scorso sabato 30 marzo tra i vicoli e palazzi storici poco conosciuti di Castellabate per uno spettacolo in costume davvero coinvolgente i tanti visitatori presenti alla rappresentazione teatrale interpretata da Medeo Colella e da tanti cittadini del comune cilentano. Gli attori infatti hanno intrattenuto il pubblico presente per circa un'ora sul tema amore e morte nel medioevo cilentano. Un napoletano amore e morte nel medioevo cilentano Ius Prime Noctis che cos'è questo Ius Prime Noctis? Stasera è la ricostruzione della storia del Cilento attraverso una scusa noi prendiamo una delle cose che si racconta dove dovunque c'è un castello nel Cilento si racconta che il Signore esercitasse lo Ius Prime Noctis. Stasera noi ispirandoci a questa leggenda faremo un viaggio nella storia del Cilento incontreremo personaggi storici dall'Abbate di Cava a San Costabile ovviamente a Giovanni Battista Vico che qui insomma è stato nel Cilento a Gioacchino Miurà che ha dormito qui insomma nel comune di Castellabate. E' proprio negli slarghi nelle vie di Castellabate stasera questa visita teatralizzata. Questa è un'idea che è nata proprio da Amedeo Colella sviluppata con il supporto del comune di Castellabate che ha creduto sempre in questo progetto e non a caso stasera questo Ius Prime Noctis questa visita teatralizzata qui a Castellabate e domani sera a San Marco è inserita in un progetto cofinanziato dalla regione campanica Castellabate il luogo dell'incanto. Sì ovviamente serve molto servono molti questi progetti, serve molto per tentare di attirare un turismo diverso da quello che affola le nostre spiagge a luglio ed agosto, una destagionalizzazione come la chiama il comune però un'attività insomma incomiabile che incoraggia soprattutto quello che è il turismo sostenibile quello che dobbiamo promuovere in ogni modo.